Nome. Edward Wayne Edwards. Soprannome. The Hawkman. Numero vittime. 5 accertate. Modus operandi. Arma da fuoco, arma bianca, strangolamento. Edward Wayne Edwards è nato il 14 giugno 1933 in Ohio, Stati Uniti. Non ebbe un'infanzia facile. Assistete al suicidio della madre quando era solo un bambino. Successivamente fu trasferito in un orfanotrofio, dove subirà violenze sessuali e psicologiche. Tutto questo inciderà parecchio sulla stabilità mentale del ragazzo. Appena diciottenne si è unito ai Marines degli Stati Uniti per un breve tempo, ma dopo due anni ritornò alla sua vita. Ha viaggiato spesso durante i suoi anni 20 e 30 facendo lavoretti, come scaricatore di portonave, rivenditore e tuttofare. Ha passato gran parte della sua vita dentro e fuori da galera per reati come furto. Nel 1955 Edward si è fuggito da un carcere a Decron e si è aggirato per tutto il paese, derubando stazioni di benzina, quando aveva bisogno di soldi. L'uomo non si è mai mascherato per i suoi crimini. A suo dire, voleva diventare famoso. Diventato uno dei dieci uomini più ricercati del Kentucky, fu trovato e arrestato nel 1961 per poi essere rilasciato nel 1967. In quell'anno si sposerà e avrà due figli. Edward era un cinico. È apparso in ben due programmi televisivi nel 1972 e scrisse anche un'autobiografia nel libro La metamorfosi di un criminale. Nel 1982 fu arrestato nuovamente per incendio doloso. Questo suo cinismo lo porterà alla follia. Una follia che non risparmierà la vita di cinque persone. L'assassino prendeva di mira le coppie. Agosto 1977. Billy Lavaco, 21 anni e la fidanzata, Judy Stroop di 19 anni, sono stati freddati a colpi di pistola in un parco. Dopo questo duplice omicidio, l'assassino si spostò nel Wisconsin. È il 1980. T-Mac, 19 anni, e la fidanzata, Kelly Drew, 19 anni, furono aggrediti dall'assassino seriale. Presi a pugnalate e successivamente strangolati fino a porre fine alla loro vita. Edward, uno dei primi sospettati, fu interrogato per questo altro duplice omicidio ma non c'erano le prove per trattenerlo. È il 1996. Danny e Boy Gloeckner. Il ragazzo era stato adottato da Edward e dalla moglie quando era bambino. L'uomo lo freddò a colpi di pistola. Lo uccise per raccogliere i soldi dell'assicurazione. Ad incastrare l'uomo fu proprio il figlio, che fece una segnalazione alle autorità nel 2009. Gli investigatori notarono che Edward era stato sospettato come l'omicida delle coppie e, quindi, con ormai la scoperta del DNA, è stato possibile ritenerlo responsabile dei cinque omicidi avvenuti tra il 77 e il 96. Arrestato nel 2009, confesserà tutti gli omicidi nel 2010. Edward era fortemente sospettato di altri due delitti ma per mancanza di prove non fu possibile e imputaglieli. È stato fortemente sospettato di essere il killer dello Zodiaco. Un assassino seriale che terrorizzò la San Francisco degli anni 60 e 70. Un sospetto che rimase solo tale. È il marzo del 2011 quando la corte lo condanna a morte. Il killer muore in 7 aprile 2011 per cause naturali.